Mancano poco più di due mesi, ma la macchina organizzativa del Salone Nautico di Pescara è già in moto. La non-edizione dedicata al mondo della nautica, del mare e della pesca si svolgerà dal 29 al 1 maggio. Con la conferma di importanti patrocini, come quello di Asso Nautica, l'evento pescaresi assume un ruolo di rilievo nello scenario fieristico nazionale dedicato alla nautica. Oltre ad essere leader mondiali, la nautica italiana, insieme al turismo nautico, è stato l'unico settore che non è arretrato, non ha subito neanche il Covid, anzi è cresciuto più di tutti gli altri settori e anche il turismo nautico, l'idea della vacanza in barca è ormai sloganata, forse anche nella ricerca di libertà, di stanze, di avventura e tutto ciò che una vacanza in barca può essere fatta, non solo essendo proprietario, ma anche noleggiando, locando un'imbarcazione da diporto. Tante le novità in arrivo per espositori appassionati. La superficie indoor e outdoor raggiunge i 4.000 metri quadrati, oltre alla possibilità di esporre imbarcazioni e natanti con possibilità di visita. Non mancherà un'area food ed eventi correlati con workshop e uscite in barca. È un mix, diciamo, tra B2C, quindi business consumer ed eventi. Gli eventi naturalmente hanno un taglio molto specifico perché sono dedicati all'innovazione con il premio design nautico giunto alla sesta edizione, ma sono dedicati anche e soprattutto negli ultimi anni in particolare al rapporto tra sostenibilità ambientale e attività legate alle blu economy. Il salone nautico anche quest'anno è promosso dalla Camera di Commercio Chieti Pescara e dal Marina di Pescara. È una delle attività che è sicuramente interessante per il territorio perché fa conoscere il nostro territorio e andiamo ad alimentare l'economia del mare che è sicuramente un'economia ancora da mettere a reddito perché credo che sia l'economia tra le più importanti che c'è nel sistema economico.